Oggi Mario Draghi ha fatto un discorso molto importante, molto importante perché mette al centro il problema dell'Italia, il problema dell'Italia fondamentale, principale, è il capitale umano. Nelle economie sviluppate non ci sono scorciatoi, la crescita avviene attraverso l'investimento sul capitale umano, quindi sulle competenze, gli investimenti sui beni materiali e immateriali, la crescita della produttività, la crescita dei redditi, la crescita della domanda interna. Questo è il circolo virtuoso che funziona dappertutto e che non funziona in Italia. E in Italia non funziona perché la dotazione di capitale umano è bassissima. Noi abbiamo il 40% di ragazzi che esce dalla scuola secondaria con competenze fragili, il doppio della media europea. Abbiamo il 50% dei ragazzi che non leggono un libro in un anno, il 70% nel mezzogiorno. Abbiamo un altissimo livello di analfabetismo funzionale che vuol dire cittadini che per esempio non conoscono come funzionano le istituzioni e quindi hanno difficoltà a fare un voto fondato su per esempio il riconoscimento di responsabilità. Hanno per esempio difficoltà a sapere se una certa competenza è regionale oppure nazionale. E questo è drammatico, a livello europeo è ancora più complicato. Si parla di Europa indifferentemente se si parla di Unione Europea, cioè delle istituzioni europee o di uno Stato europeo. Quindi non ci scapisce niente. Ecco, il capitale umano è l'insieme delle dotazioni di cultura, di competenze, di conoscenze che una nazione ha. E noi siamo messi in malissimo e da lì bisogna ripartire. Il discorso di Draghi ha un'altra cosa molto importante che spiega che la strada per la crescita è una strada articolata. Non c'è una pallottola d'argento che risolve i problemi, il reddito di cittadinanza che abolisce la povertà, il quota 100 che rilancia l'occupazione, la flat tax che crea sviluppo e ricchezza. Non c'è una cosa, c'è un insieme di cose e non sono queste. C'è un insieme di cose che un paese molto indebitato deve fare molto bene perché non ha possibilità di sprecare. Ed è un percorso lungo e molto complicato. E dunque una visione della politica come arte di governo principalmente. E questo è il terzo punto del discorso di Draghi molto importante. Noi siamo abituati a pensare la politica come un conflitto ideologico da tantissimi anni. E se vedete gli ultimi giorni quello che è successo è con l'alleanza PD-5 Stelle e con l'alleanza oggi, siglata definitivamente, cosiddetta antinciuscio tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, si sono costruiti due poli contro, la cui ragione di esistenza è dire se vincono gli altri è una tragedia. Perché sono fascisti, perché vogliono gli immigrati, per quello che vi pare. E questa cosa fa scomparire un'idea della politica per qual è il piano per l'Italia, l'idea di Italia. E questo si comprende perché tutti i tentativi che vengono fatti, pensate agli Stati Generali, si dissolvono nel nulla perché su quello non c'è coerenza di questi schieramenti. Ecco, se c'è una cosa che azione vuole fare è raccogliere questi tre punti da sempre, la politica come arte di governo, non come conflitto ideologico, e quindi il pragmatismo nella politica, il capitale umano al centro, come motore dello sviluppo del paese, e anche come antidoto alla caduta delle democrazie, alla non consapevolezza, alla non attività del cittadino, ma solo in molti sensi la passività o viverla come un tifoso di una squadra di calcio. Ecco, questi due elementi si possono combinare con il terzo, che è un modo di fare politica dove racconti la verità, e certe volte, per esempio, se si fa un buon provvedimento, un avversario lo riconosci, cioè uscire dalla dimensione della politica come adolescenziale, come se fosse uno scontro in cui l'avversario ha torto, poi magari però tieni tutti i suoi provvedimenti. È successo molto con questo governo, con il governo precedente, pensate dai decreti di sicurezza agli 80 euro. Succede sempre che ci raccontano che quel provvedimento era totalmente sbagliato e poi lo tengo. Ecco, tutto questo va a comporre un modo nuovo di fare politica che deve dare rappresentanza all'Italia seria, quella che lavora, produce, studia, fatica, a, se devo dargli una volto, ai 9.000 laureati in medicina a cui non stiamo dando le borse di specializzazione e che finiranno per andare fuori dall'Italia. Ecco, io penso che Azione oggi è il luogo dove questo si può fare fuori da quei due schieramenti che uno contro l'altro si presentano contro, per l'appunto. A noi piace fare la politica per, che è un concetto completamente diverso, piuttosto banale negli altri paesi, piuttosto inusuale in Italia.